Il cuore vita, il cuore passione, la leggenza, è un grande attore, è movevole, il nostro ragazzo ha rotto la nostra forza, il tuo ricerche comunque in gioco, perché guardiamo la nostra storia, questo è il primo gioco del mondo, questo gioco dell'Olimpico, questa è la scambio della cultura Ettore, Armatio, Bergamo, losti, pesca fronte, Matteo, barba, Il numero 28, Alessandro Alicisi Il numero 23, suorlaat Il numero 11, Marmone Vali Il numero 23, suore atleter Il numero 90 è lui, otto anni, numero 60 giornale, Riccardo Eccardini, numero 7, Giulio Eccardini, a disposizione, il numero 1, Francesca Renetto, il numero 10, Alessandro Ziriga, il numero 27, Giuseppe D'Evris, il numero 30, Sant'Antonio Basiello, il numero 50, Francesco Natani, il numero 76, Ginza Pasquato, il numero 99, Simone Bresci, Forza, Vecchio, Vocchio, Gerata, la prima scuola, e 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 la prima scuola! Grazie!